Prende forma il cantiere per la realizzazione del nuovo ospedale di Cagli nel progetto di potenziamento di una sanità di prossimità voluta dalla riforma sanitaria regionale. Ieri l'assessore con delega all'edilizia ospedaliera Francesco Baldelli ha effettuato un sopralluogo alla partenza degli scavi di fondazione per la realizzazione del piano zero di un progetto complessivo da 15 milioni di euro. Gestire in questa parte del territorio un servizio sanitario significa agevolare anche i servizi sanitari che vengono erogati da altre strutture ospedaliere come quella del capoluogo di Pesaro o come quella di Fano, evitando quegli imbuti che stiamo vivendo quotidianamente nella nostra sanità regionale dovuta alla chiusura di tutti i presidi sul territorio. Noi stiamo restituendo servizi al territorio, Cagli niente alla riforma con questo cantiere. L'ospedale sorgerà in un nascente parco urbano attraverso una struttura da 40 posti letto ai quali si aggiungono una molteplicità di ambulatori, dai medici di medicina generale ai pediatri fino alle funzioni specialistiche, dalla radiologia fino al CUP e agli spazi per la POTES. Una struttura particolarmente moderna che non solo sarà efficiente da un punto di vista energetico, ossia produrrà quell'energia di cui ha bisogno l'edificio per funzionare, ma in una zona sismica come è un po' tutto il nostro appennino, questa struttura non solo sarà antisismica, ma sarà in grado di continuare ad operare anche durante un evento sismico, anche di notevoli dimensioni.